all'interno del simbolo bidimensionale della finestra è possibile gestire l'apertura dell'anta per poterlo fare basta andare a selezionare la finestra e andare ad agire sull'hotspot dinamico una volta fatto clic abbiamo la possibilità di andare a definire l'angolo di apertura 2d dell'anta nel caso vuoi controllare meglio andando a inserire un valore in gradi per quanto riguarda il verso di apertura hai la possibilità di farlo all'interno della finestra impostazioni dell'oggetto finestra alla voce tipo apertura e angolo puoi andare a definire l'angolo di apertura 2d andando a inserire all'interno di questo box un valore in gradi una volta fatto confermando con ok vedrai la modifica all'interno del simbolo bidimensionale